Siamo a Cavaretirreni, le corti dell'arte, nuova edizione, altre volte l'ho intervistata, mi diceva sempre questa è l'ultima volta, è l'ultima volta, però ogni volta la ritrovo qua, sempre con le corti dell'arte. Che cosa succede? Quest'anno sarà veramente l'ultima edizione o possiamo incominciare a parlare già della prossima? Per scaramanzia parlare della prossima, è un po' presto, aspettiamo almeno che finisca questa che poi tra l'altro sarà venerdì. Sì, avevamo pensato di chiudere ma c'è Giuliano Cavaliere il quale dovrebbe essere lui intervistato ma è impegnato, che ha raccolto un testimone, devo dire un po' scomodo, però è stata una sua scelta quella di provare a continuare, anzi a rinnovare perché ha delle idee molto interessanti. Di quest'anno qual è la novità rispetto alle scorse volte? E poi la novità è questo spazio che è stupendo, si presta particolarmente bene, l'abbiamo inaugurato con un fortunato concerto di Fabrizio Bosso qualche giorno fa, è un posto che ha le caratteristiche adatte per fare questo tipo di musica, centralissimo, quindi ci troviamo bene e questa è una delle novità. Tra le tante novità ci sono tante conferme, il numero di persone che partecipano, l'altro giorno mi sono trovato a passare, c'è una fila, tra l'altro nello stesso location di questa sera, veramente tante persone che hanno proprio sete di musica, di buona musica e penso che le cortie dell'arte siano uno di quegli eventi che sono irrinunciabili per chi crede nella buona musica. E questo rappresenta un po' il motivo per il quale noi tiriamo avanti, che non è un fatto di cocciutaggine o di stardaggine, che è un patrimonio che si perderebbe. I numeri sostanzialmente, quelli dei corsi sono confermati di anno in anno e sono già elevati, si è allargato il bacino, nel senso che prima erano soprattutto italiani, adesso una grande parte vengono dall'Oriente, dagli Stati Uniti. Invece è in crescita il pubblico dei concerti, il pubblico dei concerti è in costante crescita addirittura superiore alle nostre aspettative, abbiamo dovuto ristambare i biglietti in qualche occasione. Evidentemente è radicata la manifestazione, la gente apprezza probabilmente le proposte, non c'è altro. E questi sono tutti elementi che secondo me dovrebbero far riflettere gli amministratori, perché rimane il grande punto interrogativo, se piove, che si fa, dove si va. Non abbiamo una struttura invernale, ma soprattutto abbiamo nemmeno una struttura, se piove d'estate. Le corti dell'arte sono nate proprio perché non c'era un teatro, 31 anni fa mi pare che attualmente nemmeno ci sia, per cui questo è un elemento di riflessione politica di chi deve dare un indirizzo a una città che ha sete di cultura, che ha tradizioni culturali fortissime, ha una sete di iniziative di qualità. Ma noi non facciamo politica.